Buongiorno, sono da voi, prego, buongiorno. Gaza si sta consumando una carneficina senza fine, veramente un orrore e non da ieri, non dovevamo aspettare l'ultimo massacro che è avvenuto sotto i nostri occhi, noi lo stiamo denunciando dall'inizio, ho visto che la Presidente Giorgia Meloni ha fatto un posto sull'ultimo avvenimento, però voglio dire che fino adesso ha votato, si è sempre astenuta sul cessato del fuoco, quindi ritengo ipocrita intervenire solo adesso quando ormai siamo a un numero di civili palestinesi, oltre 30.000, di cui il 70% donne e bambini, è veramente un orrore, oggi Giorgia Meloni a Washington è andata a ricevere un aggiornamento sulle istruzioni, io spero che si possa consultare con Biden e quindi capire che addirittura è stata scavalcata da Biden, anche per gli americani questa situazione sta diventando insostenibile, quindi spero che possa ritornare con istruzioni aggiornate adeguate alla gravità dell'orrore che è sotto i nostri occhi. Presidente, come valuta peraltro le dichiarazioni della Presidente Meloni? Aspetta, c'è una domanda di Parezzo dal studio. Parezzo, faccia una domanda difficile. David, ti ascolto, io stavo per chiedere come valutava le dichiarazioni della Meloni. Stiamo trasmettendo in diretta le immagini del funerale di Navarli, immagini clandestine sostanzialmente perché lì non possono essere trasformate. A quali dichiarazioni della Meloni vi riferite? Vuole commentare le immagini di Navarli? Non le vedo però, attenzione. Sul Navarli noi abbiamo preso una posizione chiara, molto dura, abbiamo condannato, guardi ero Presidente del Consiglio, abbiamo subito denunciato l'avvelegnamento che aveva subito, è stato, come sapete ricordate, curato in Germania, abbiamo chiesto che ci fossero tutti gli accertamenti del caso e tutte le responsabilità, come pure abbiamo seguito poi la sua trafila processuale e il fatto che fosse tenuto in carcere in Siberia e da ultimo abbiamo denunciato quello che è accaduto. Ieri il Movimento 5 Stelle è stato l'unico al Mischio in questo momento, credo, in Germania, in la base europea, quindi scrive il Sardegno. Ma noi non potremmo mai sottoscrivere quello che è scritto nella risoluzione che ieri è stata votata da tutte le forze politiche italiane che sono appresentate nel Parlamento europeo e cioè che l'obiettivo principale dopo due anni rimane quello di ottenere una vittoria militare sulla Russia. Vogliamo aiutare la popolazione ucraina a uscire da questa vicenda, ovviamente in modo assolutamente dignitoso, onorevole, tutelando la sua sovranità, questo sì, ma pensare di continuare con questa escalation militare, questa strategia folle per sperare di ottenere una vittoria militare sulla Russia. La Russia ha 6 mila testate nucleari. Ci dicono che ha sottoscritto quella risoluzione del Parlamento europeo che cosa significa? Voglio accettare lo scontro nucleare, il rischio nucleare. Che cosa significa la vittoria militare sulla Russia? Cosa significa scrivere su quella risoluzione che d'ora in poi ogni paese membro dell'Unione europea si impegna a destinare per gli aiuti militari all'Ucraina? Ogni anno lo 0,25 del PIL. Sono 5 miliardi. Giorgio Meloni si è vantato di aver messo solo 3 miliardi sulla sanità. Secondo lei 5 miliardi diamo all'Ucraina? Ma avete visto qui in Abruzzo, avete visto in Sardegna, avete visto in tutta Italia com'è disastrata la sanità? Il Pentagono dice se l'Ucraina perderà sarà la Nato poi a dover combattere contro la Russia, no? Ma è per questo che noi abbiamo chiesto a Draghi, a Meloni, a tutti i nostri governanti sin dall'inizio di costruire un negoziato di pace. Se non ti siete a un tavolo per trovare una soluzione dove riprende vigore la politica, gli sforzi diplomatici, non abbiamo prospettive. E guardate che più passa il tempo, più perdiamo potere negoziale. Perché se il negoziato l'avessimo fatto subito, quando ancora ovviamente avevamo la prospettiva che l'Ucraina potesse fare contro offensiva, che poi non si sono rivelate efficaci, noi avremmo avuto più potere negoziale. Ogni giorno che passa, e aspettiamo, figuratevi, quando arriveremo alle elezioni americane in prossimità, noi perdiamo potere negoziale in questo negoziato. A proposito di sanità è stata accorta da una signora che ha gravi problemi di approvoggiamento di farmaci, in gravi condizioni di salute, ecco in Abruzzo la sanità è un tema forte. Guardi, purtroppo la sanità è un tema fortissimo in Abruzzo, come dice lei, ma ormai fortissimo in tutta Italia, dove più dove meno. La signora che abbiamo parlato qui un attimo fa ha difficoltà a reperire un farmaco salva vita, ma qui abbiamo delle file che possono variare un attimo. Qui per una colonoscopia mi dicono che la media è oltre 400, quasi 450 giorni l'anno, da un'altra parte 500, da un'altra parte 300 giorni, ma siamo ormai a questi livelli. Oggi abbiamo migliaia di cittadini abruzzesi che vanno a curarsi fuori. È una sanità disastrata, noi lo stiamo dicendo. È per questo che dovevamo trarre lezioni dalla pandemia. E purtroppo però la sanità è in mano ai presidenti delle regioni. L'80% del bilancio della sanità è gestito dalle regioni. Uno pensa ancora a livello nazionale, no, è a livello regionale. Ecco perché queste elezioni regionali sono importantissime anche per dare una svolta, un segnale vero di attenzione e di concretezza sulla sanità. Presidente, basta l'effetto Sardegna per vincere l'effetto Sardegna. Non è questione che l'effetto Sardegna fa vincere le nostre forze progressiste in Abruzzo, però sicuramente in Sardegna c'è stato un forte segnale di rinnovamento che i cittadini sardi hanno voluto esprimere. Io confido che anche i cittadini abruzzesi dicano finalmente basta ed esprimano questo malcontento perché la giunta, senza voler offendere nessuno, però la giunta uscente non si è distinta per l'attenzione ai problemi concreti dei cittadini abruzzesi. Io non lo so perché, se è una questione di incapacità o un fatto oggettivo che non si può governare una regione smart working da Roma. Probabilmente sarà anche questo, è un fatto oggettivo. Restituiamo la Prusso agli abruzzesi. Presidente, proprio ieri la Meloni parlando di infrastrutture ha annunciato l'arrivo di 760 milioni di euro per il raddotto della linea Pescara-Roma. Come commenta? Io mi sarei vergognato da Presidente del Consiglio a qualche giorno dal voto a rifinanziare un definanziamento che era stata colpa del governo. Perché mi chiedo, scusate, quando hanno definanziato il PNRR questa linea, la Roma-Pescara, Marsilio che cosa ha fatto? Ha subito supinamente questo definanziamento. Adesso qualche giorno dal voto si svegliano a rifinanziare. Peraltro diciamolo ai cittadini abruzzesi, stiamo parlando del finanziamento dell'8-1 e dell'8-2. Quindi non è la Roma-Pescara, è la Pescara-Chieti. Ma queste cose elettorali, queste prese in giro, i cittadini sono stanchi. Cosa hanno fatto sin qui? Sono 16-17 mesi di governo nazionale e Marsilio sono 5 anni che governa la regione. In Abruzzo è campo largo o campo giusto? Come sempre è campo giusto. Grazie. A scambio Meloni-Mattarella, io non voglio interpretare il pensiero di Giorgia Meloni se era diretto o meno al Presidente della Repubblica, perché filtra che non era diretto al Presidente della Repubblica. Sicuramente è stata un'espressione molto ambigua, ma quello che voglio dire, quindi dovrà chiarire secondo me, ce l'aveva col Presidente della Repubblica, lo dica chiaramente se hai il coraggio. Allora lo neghi, perché se in questo momento stanno interpretando così le sue parole, lei ha il dovere di intervenire e dire non ce l'aveva col Presidente della Repubblica. Se lascia tutto nell'ambiguità, credo che sia anche vigliacco da parte del Presidente del Consiglio. Uno. Due. Se fosse un'attacca al Presidente della Repubblica sarebbe gravissimo, perché il Presidente della Repubblica, garante dell'unità, ha parlato in modo impeccabile e sono parole risolutive. Non si può pensare di vivere in un contesto democratico senza consentire dei giovani di poter manifestare, a volto scoperto, in modo assolutamente lecito, quella che è la loro preoccupazione, la loro angoscia. Se nel caso anche la rabbia per quello che sta succedendo a Gaza ci mancherebbe. Stanno manifestando in tutto il mondo e questo principio costituzionale lo dobbiamo garantire a tutti, ragazzi, giovani, donne, bambini. E noi ovviamente non sto dicendo che siamo contro la Polizia, io l'ho dichiarato, perché non è questo il tema. Noi siamo con la Polizia sempre, fermo l'estando che ci sono degli episodi in cui ci sono reazioni eccessive, bisogna accertare che ha la responsabilità e agire di conseguenza. Però dico, Giorgia Meloni sta con la Polizia quando sempre, cioè mi faccia capire, quando c'è stato Bignami, il Vice Ministro, c'è stata la manifestazione che era compostissima da parte delle famiglie alluvionate nell'occasione della passerella in Emilia Romagna, di Meloni con accanto la Fonderlai. E' andato lì, ha dato degli incompetenti, si è scagliato contro le forze di Polizia perché dovevano far tacere e reprimere il dissenso. Ma allora cos'è? Si è con le forze della Polizia a giorni alterni? A secondo se il dissenso sia contro Giorgia Meloni e il governo che passa lì, peraltro un dissenso composto e poi se si manifesta con Gaza invece è il contrario? Non va bene.